Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo tutorial. Oggi non è proprio un tutorial vero e proprio, ma è un'aggiunta a un tutorial che avevo precedentemente fatto. Qui sulla destra, cliccando sulla finestra, potete accedere a come creare il vostro logo GoPro in 5 minuti. Allora, il tutorial in questione l'ho fatto prima dell'uscita della GoPro Hero 4, quindi in questo tutorial potete trovare nella descrizione qua sotto il file anche della GoPro Hero 4. Per cui potete creare il vostro logo GoPro in meno di 5 minuti, anche per il possessore di GoPro Hero 4. Vi ricordo il file in descrizione e adesso vi lascio al tutorial. Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo tip. Quest'oggi vi spiego come creare un vostro logo personale GoPro. Nella descrizione troverete un file che potete scaricare. Una volta scaricato ci sono tre cartelle all'interno. La prima è name più font. Il primo file è un font, ovvero la scritta, con la quale andremo a creare il nostro logo. E la base, dove scriveremo il nostro nome o il nome del logo.